Accordo? Noi aspettiamo il Consiglio dei Ministri, con noi non è stato fatto nessun accordo, aspettiamo di vedere che cosa esce dal Consiglio dei Ministri. In quanto riguarda le indiscrizioni di stampa che ci sono state, qual è il suo commento? Aspettiamo il testo del Consiglio dei Ministri, ne abbiamo viste tante sui giornali, aspetteremo di vedere cosa esce dal Consiglio dei Ministri. E' soddisfatto comunque di come i sindacati siano stati trattati in questa trattativa? Io non direi che siamo soddisfatti di come siamo stati trattati noi, direi che c'è una valutazione su come è trattato il lavoratore e la lavoratrice in questo Paese, è una cosa diversa soprattutto di come sono trattati i giovani. Quindi non è soddisfatto noi che andrei qui? Direi di no.